Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi un video che onestamente non mi sarei mai sognato di portare alle battute iniziali di FIFA tant'è vero che l'anno scorso vi avevo si abituato a contenuti di questo tipo, qualche contenuto tra virgolette inchiesta però il gioco praticamente non è manco uscito e già ci ritroviamo ad affrontare un grave problema che in realtà però si ripropone di anno in anno di fatti ieri 22 settembre sono state rilasciate sia la web app che l'IA Play, quindi la versione di prova delle 10 ore che in qualche modo segnano l'inizio ufficiale della nuova stagione perché tutti possono mettere per la prima volta le mani sul gioco però in realtà la data diciamo centrale di lancio non è stata il 22 ma il 20 dove EA attraverso quello che il network The Game Changers e tramite The VIP Kit vi spiegherò successivamente come funzionano queste due fattispecie più avanti ha dato il gioco a delle personalità di spicco all'interno ovviamente dei propri settori che lo hanno portato in streaming o tramite video sulle loro piattaforme in maniera tale da massimizzare l'hype attorno al nuovo titolo ci sta, è una cosa che EA fa sempre per aumentare l'entusiasmo in maniera tale che all'uscita tutti quanti desiderano FIFA 22 desiderano giocarlo, vederlo, parlarne però contestualmente anche quest'anno si è riproposto l'annoso problema di chi in realtà non essendo legittimizzato ad avere tramite canale ufficiale il gioco è riuscito ad averlo in anticipo attraendo un vantaggio devastante su tutto il resto della community, su tutto il resto degli utenti quindi innanzitutto ci tengo a ringraziare Marco Ravetto, giornalista di Rolling Stones che mi ha fornito alcune delle immagini che vedrete in questo video in quanto ovviamente essendo un giornalista ha ricevuto una copia in redazione per testarlo e da insider ha potuto andare a scovare nelle classifiche alcuni di questi disonesti che vi andrò a far vedere, ma non tanto per parlare di chi ha fatto questa cosa ma per cercare di portare alla ribalta questo tema e cercare di finalmente trovare delle soluzioni che per me sono anche abbastanza semplici e non capisco perché non vengono attuate quindi senza perdere ulteriore tempo passiamo immediatamente sulla schermata di riferimento che in realtà si tratta di un video, video che a breve farò partire prima però voglio spiegarvi cosa sono i game changers e cosa sono i VIP kit i game changers non sono altro che un network istituito da EA qualche anno fa all'interno del quale ci sono tutta una serie di content creators i quali ovviamente partecipano a quello che è anche il processo di decision making che porta poi al prodotto finale quindi del nuovo titolo ogni anno e che ovviamente sono i primari soggetti a ricevere il gioco in anteprima nel momento in cui prima del lancio bisogna fare un po' di campagna marketing per farlo vedere, pubblicizzarlo eccetera eccetera poi ci sono i VIP kit, parallelamente non sono altro che dei codici di gioco quindi versione di gioco che viene data a personaggi famosi chi vuoi perché è un calciatore, chi vuoi perché è uno streamer molto conosciuto insomma gente che riesce comunque ad avere il gioco in anteprima direttamente da EA ad esempio in Italia il VIP kit lo ha ricevuto Zano content creators appartenenti al network dei game changers che hanno giocato prima sono stati Justiz e Ron quindi tutte persone che vengono coinvolte per insomma pubblicizzare il gioco però cosa succede? che ogni anno, vuoi o non vuoi, c'è sempre qualche furbetto che si riesce a inserire all'interno di questo meccanismo eppur non essendo un personaggio di interesse oppure un appartenente al network dei game changer mette le mani sul gioco e si porta avanti in una maniera assolutamente devastante e questo è proprio il contenuto del primo video che vi vado a mostrare perché come appunto vi dicevo nel titolo un sacco di pro, ma un sacco raga, sono riusciti a mettere le mani sul gioco avendo dei profitti mercato e dei club già strapieni di carte che nel momento in cui il gioco uscirà e sarà disponibile per tutti andranno ad influenzare tantissimo il mercato per cui ad esempio se io mi sono procurato 10 Renato Sanchez che erano cappati a 15k sicuramente verranno estinti sul mercato e quando verranno modificati e costeranno di più io li prendo e li vado a vendere e mi farò un sacco di crediti se ho avuto la possibilità di agire in anticipo di fatti, come vi faccio vedere andando a vedere quelle che sono le classifiche ecco qui valore club abbiamo al primo posto Ethan un pro player che magari qualcuno ricorderà in quanto ha giocato nei makers inglese che addirittura ha 287 milioni di valore club che non sono i profitti mercato attenzione, il valore club non è altro che una somma di tutte quelle che sono le carte contenute all'interno del club ma non per il valore di vendita semplicemente viene calcolato tramite una formuletta ad esempio ricordo che le carte ororare il loro rating tipo al cubo diviso 2 ti dà il valore club corrispondente una roba del genere mo non faccio Archimede Pitagorico ma una roba del genere abbiamo al secondo posto questo exclusive che onestamente non so chi è ma è qualcuno che probabilmente ha cambiato gamertag al terzo posto Basil Smash con 257 milioni di valore club Javier Castiglio che mi sembra uno degli agenti di Narcos su Netflix Footweeds Nikseb pro player inglese dei Footweeds per l'appunto Wolfsun Sal pro player svedese dei Wolverhampton che anche lui si piazza con un comodissimo 220 milioni abbiamo un tale ProTrader 87 con 219 abbiamo poi vabbè Zano ovviamente Lev Winken un altro pro player in questo caso olandese e dopo aver visto quello che è il valore club io passerei a vedere quelli che invece sono i profitti mercato perché qui la faccenda si fa ancora peggiore secondo me perché abbiamo Scels a quota 5 milioni e mezzo di profitti mercato praticamente in un amen raga aperto pacchi e scartato roba proprio così senza pudore Exclusive a 5 milioni e 4 Ethan a 4 milioni e 100 Avie Castiglio a 3 milioni e 7 Smokey Clever 3 e 6 BF Lillis pro player del Brondme a 2 milioni e 7 quasi 3 milioni cioè questo potere economico porta un vantaggio incredibile l'anno scorso chi è riuscito ad avere il gioco in anteprima si è portato a casa carte come Cristiano Ronaldo a 400k ma stiamo scherzando ma per quale motivo io poi personalmente da un punto di vista competitivo devo magari ritrovarmi a gareggiare contro questi che hanno pagato le carte pochissimo oppure a gente che ti va a influenzare il mercato praticamente facendo e decidendo i prezzi avendo in mano un potere devastante ma non finisce qui non finisce qui perché un'altra cosa che a me ha fatto molto storcere il naso è esattamente questa ovvero il fatto che a quanto pare all'interno di quelle che sono le division rivals i premi verranno rilasciati di mercoledì quindi tutti questi giocatori sono riusciti praticamente a giocare a portarsi a casa tutta una serie di premi che in realtà l'utente medio non può prendere non so per quale motivo hanno switchato i premi dal giovedì al mercoledì ma sarebbe stato molto più sensato tenerli al giovedì visto che il mercoledì è uscito i play almeno qualcuno si faceva delle partite e si prendeva dei premi anche qui questa è una cosa che onestamente non ho capito così come non ho capito anche un'altra questione questa qui ovvero relativa a quelle che sono le percentuali dei giocatori all'interno dei pacchetti da 150 crediti quindi praticamente il pacchetto base quello da 7500 crediti e dice che la probabilità in questo caso fa riferimento al 17 settembre quindi questa gente probabilmente visto che i server sono stati aperti il 17 settembre il gioco ce l'ha già dal 17 settembre ed è già dal 17 settembre che sta farmando tutta una serie di pacchetti che gli porteranno un vantaggio incredibile e un'altra cosa collegata a questo che mi ha fatto storgere ancora il naso e che poi stanno upgradando quella che è la probabilità la probabilità dei pacchetti è sotto aggiornamento questo solitamente dipende da quelle che sono le nuove release su foot per vedere quelle che sono le probabilità aggiornate torna tra pochi minuti questo non si sa se è un errore di sistema oppure in realtà hanno tenuto questa componente di pacchetti percentuali pompate per favorire quello che è stato il lancio del gioco tra virgolette attraverso gli streamer che non c'è niente di male però se ne sono approfittati anche tutta una serie di pro player e giocatori che per vie parallele hanno preso il gioco e questo non va assolutamente bene come si può risolvere questo problema? per me è molto semplice e basilare la risposta perché se tu dai il gioco per dire il 20 settembre e dici ok il 20 alle 19 puoi andare live e far vedere il gioco i server fino al 20 settembre santo dio li tieni chiusi e soprattutto li tieni aperti per una finestra temporale magari li apri dalle 19 alle 24 del 20 settembre o dalle 19 alle 19 del giorno dopo ma non li lasci aperti perché adesso tutti questi che si sono procurati il gioco mentre noi ci dobbiamo centellinare le ore vanno dritti, vanno lì, si farmano, giocano a stecca come se non ci fossero domani perché tanto hanno il gioco già completo e capite che è veramente un vantaggio enorme un vantaggio enorme che si ripete di anno in anno è veramente io non capisco come è possibile che non si vada a pensare a un rimedio come quello dei server come quello magari di dare degli account di prova che poi quando c'è la release ufficiale del gioco vengono tirati via e si riparte tutti quanti da capo non so perché ogni anno ci deve essere qualcuno che parte dalla pole position in maniera indebita come se avesse girato il giro veloce su una Ferrari e noi su una Panda e onestamente sta cosa è una roba che mi ha fatto veramente veramente innervosire quindi vorrei sapere che cosa ne pensate voi nei commenti di questa faccenda di questo scandalo del day one come possiamo diciamo chiamare vi ricordo che comunque in descrizione trovate tutti quanti i link di riferimento in particolare per le live sulla piattaforma viola che adesso col gioco che esce ripartiranno a mille aspettatevi tutta una serie di contenuti relativi alle tattiche i tutorial eccetera eccetera perché poi non c'è niente da fare ragazzi farà arrabbiare sarà alle volte anche ingiusto ma è il gioco è il gioco che amiamo e quindi saremo sempre qua a me non resta altro che salutarvi raga ringrazio ancora Marco Ravetto di Rolly Stones per l'aiuto è nulla un salutone al vostro Riberoski ciao 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 ciao